Michael vorrei parlarvi di quello che è online marketing per Mentecatti versione 2.0 allora perché prendere online marketing per Mentecatti versione 2.0 allora i motivi che ho individuato io sono fondamentalmente due il primo è tutta la parte riguardante il mindset uno perché appunto Big va a smontare tutti quelli che sono quei paradigmi che ci tengono legati ad essere poveri fondamentalmente va a togliere tutti quei paradigmi che ci tolgono quella che è la confidenza con la pubblicità va a togliere tutti quei paradigmi che in un qualche modo possono abbassarci l'autostima e conseguentemente impedirci poi di farci pubblicità di pubblicità nel nostro personal brand e via dicendo secondo motivo per quanto riguarda il live nel senso che abbiamo accesso appunto con online marketing per Mentecatti 2.0 a oltre 500 ore di live che se qualcuno già da prima seguire su live può già da lì capire quello che è il valore però vi posso assicurare che dopo aver visto il corso il valore dei live è assolutamente superiore perché avete le competenze tecniche per poter capire alcune sottigliezze che altrimenti non avreste capito quando li avete guardati su youtube quindi quelle 500 ore di live viste dopo il corso sono addirittura molto molto meglio rispetto a quando le guardavamo su youtube un'altra cosa che vorrei aggiungere è il metodo nel senso che nel corso è spiegato anche quello che è il metodo dell'immersione che è il metodo che fondamentalmente Big Luca ed adesso anche poi noi studenti quindi anche io utilizziamo per apprendere le cose e consiste nel far entrare quelli che sono i paradigmi nella mente inconscia e ci troveremo poi ad applicarli fondamentalmente in maniera normale quindi come se per noi fosse normale quella cosa perché dico che è una cosa assurda che non si vede in nessun altro corso di marketing fondamentalmente è assurdo perché se voi per esempio volete lanciare un info business o comunque qualcosa che abbia a che fare con un servizio con un info prodotto, un corso, quello che è ma non avete qualcosa da vendere al mercato quindi non avete una competenza fondamentalmente vendibile al mercato attraverso il metodo dell'immersione vi permette di imparare anche questa capacità insomma queste skills da vendere al mercato in un tempo relativamente molto molto breve e con molto molto breve intendo che ci mettete circa un 10% di quello che ci metteresse studiando nella maniera tradizionale quindi oltre ad avere la parte sul mindset che comunque è legata a quelli che sono l'imprenditoria quindi lui basa su questi fattori però voi potete capire quali sono i problemi di un mercato e andare subito a monetizzarlo imparando in maniera rapida e veloce tutti quelli che sono i paradigmi andandoli a smontare a voi e ai vostri anche potenziali clienti perché? perché voi per primi avete fatto l'immersione attraverso quei problemi quindi voi per prima su voi stessi avete tolto quelli che sono i paradigmi e ottenuti i risultati e questo vi permette di insegnarlo molto più velocemente oltre che prenderlo velocemente un saluto a tutti comprate online marketing per menticati 2.0 soprattutto adesso che è in lancio a 1200 euro e come prezzo effettivamente è regalato per il valore che offre e come prezzo effettivamente